sì sì le notizie del tg ora i killer li hanno aspettati sotto casa pazientemente forse avvisati da uno specchiettista che ha segnalato la loro presenza nel quartiere si sono postati vicino all'abitazione di uno dei due hanno atteso che l'automobile venisse perché già si sono avvicinati velocemente con le armi in pugno almeno 12 colpi tutti sparati per uccidere Antonio Mele, Biagio Palumbo, 57 e 53 anni, due uomini trucidati ieri sera a Miano potrebbero essere stati uccisi nell'ambito degli scontri scoppiati dopo la disarticolazione del clan lorusso che in quelle zone ha segnato da padrone indiscusso per decenni l'aggolato è avvenuto intorno alle 19, gli investigatori non hanno dubbi quella pioggia di fuoco porta alla firma della camorra e le due vittime erano in bersagli designati all'arrivo della seconda traversa Jan Folla i carabinieri della compagnia Vomero hanno trovato la Peugeot di Palumbo con fai ancora accesi e crivellata di proietti per evitare che il figlio affetto da psicosi uscisse da casa una famiglia di Saviano in provincia di Napoli lo teneva incatenato a letto i carabinieri hanno arrestato madre, padre e sorella dell'uomo 36enne era costretto a vivere tra letto e armadio due lucchetti lo ancoravano da un lato a letto e dall'altro a un armadio fermata la coppia di 63 e 60 anni oltre alla figlia 35enne i militari parlano di una condizione di assoluto degrado di estreme condizioni igieniche i tre sono incensurati e disoccupati sono ritenuti responsabili di sequestro di persona aggravato e maltrattamenti in famiglia sul posto è stato fatto intervenire anche il personale del 118 che ha prestato le prime cure l'uomo è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti un'evasione fiscale da oltre un milione e mezzo è stata scoperta dalla guardia di finanza di Napoli durante controlli a medici abilitati ad accertare l'idoneità psicofisica per il conseguimento o il rinnovo delle patenti di guida i controlli hanno riguardato 150.000 visite mediche tra Napoli e l'isola d'Ischia nell'ultimo triennio l'incrocio delle informazioni di enti pubblici e banche dati ha messo in luce un sistematico occultamento dei compensi le criticità riguardano soprattutto 7 tra medici di base e medici militari in quescenza la cui posizione nei confronti del fisco non rispecchia il numero di visite effettuate uno di loro tra il 2015 e il 2016 ha effettuato 28.000 visite per le quali ha preso in nero a parte la quota trattenuta alla scuola guida compensi che hanno fatto emergere 450.000 euro di differenza tra il denaro percepito e il reddito regolarmente dichiarato altri tre medici hanno patteggiato la loro situazione con il fisco oltre 435 milioni di euro sottratti in tutto il mondo agnari correntisti grazie al traffico internazionale sul dark web di carte di credito e codici bancari sottratti tramite operazioni di hacking il gigantesco bottino è finito nelle casse di un'organizzazione criminale che agiva in 16 paesi 13 gli arrestati in ambito internazionale grazie a un'indagine che ha visto coinvolti agenti della polizia italiana e personale americano della homeland security investigation una sola persona finita in carcere in italia è un uomo della provincia di napoli conosciuto sul dark web con il nickname di danny loghort che ha preso parte attivamente all'organizzazione criminale fin dal 2010 attenzione ieri a Santa Maria di Castellabate nel salernitano una ragazza di 23 anni ha rischiato di essere violentata da un quarantenne di origini moldave in corso matrazzo pare che l'uomo abbia iniziato a parpeggiare la ragazza e poi abbia tentato di trascinarla con sé per poterne abusare l'uomo è capitata ha iniziato a urlare così ha tirato l'attenzione dei passanti la giovane è riuscita a divincolarsi e a fuggire via trovando rifugio in un negozio lo straniero non si era reso inseguendo la fin dentro il locale e minacciando la gente brandendo un ombrello arrivo sul posto di un commerciante ha messo in fuga il quarantenne che però è stato ritracciato e arrestato dai carabinieri della locale stazione nel corso di un'ispezione dei carabinieri del NAS di Salerno in tre panifici sono stati posti sotto sequestro amministrativo circa 4 tonnellate di prodotti dolciari assieme a latticini e semi lavorati tutti per mancanza della tracciabilità sequestrati anche 800 kg di carne congelata abusivamente rivenduta sempre nell'ispezione di tre attività dedite alla panificazione tra il capoluco salernitano e il cavale di Tirini se gilli invece in un laboratorio e una cella frigorifera che annessi a un panificio sono stati trovati condizioni strutturali e igienico-sanitari pessime durante le ispezioni inoltre sono state rilevate tra il personale impiegato al lavoro diverse posizioni lavorative risultate poi irregolari in provincia di Caserta e Salerno i carabinieri delle politiche agricole hanno sequestrato 5 quintali di prodotti ortofrutticoli e 4.950 uova per carenza di elementi utili per risalire la provincia del prodotto inoltre sono state sequestrate in provincia di Napoli 4.560 bottiglie contenenti aperitivi alcolici per 4.254 litri con etichette esclusivamente in lingua polacca e quindi per la mancanza di informazione a tutela del consumatore ad Amarfi sequestrate 1.774 bottiglie contenenti limoncello e 346 vasi di babà in liquore di limone per 520 litri complessivi con etichette riportanti indebitamente vocazione ai limoni della costa da Amarfi GP mentre in realtà erano stati utilizzati limoni comuni contestate sanzioni per circa 11.000 euro e con questo per il momento è tutto grazie per essere stati con noi appuntamento al prossimo TG1 stacco stacco stacco